Salve di nuovo grandiosa America, è il presidente Eden che vi parla e mi auguro di poter parlare con voi. Lo sapevi? Fra di noi c'è chi vorrebbe mandare in frantumi le nostre speranze di pace, ordine e sicurezza. Questi scontenti di fondo non si interessano a te, non si interessano all'America, li interessa solo soddisfare i loro egoistici desideri. Vogliamo prendere nota di questi agitatori? Ci sono naturalmente i predatori, quei teppisti anarchici che percorrono la zona contaminata depredando, rubando, uccidendo animali. La confraternita d'acciaio. Non fatevi ingannare dalle loro assurdità pseudo-cavaleresche o da presunti legami con l'esercito degli Stati Uniti. Questi boy scout corazzati di potere non sono che comuni criminali con l'accesso a qualche superata tecnologia. Criminali che hanno avuto l'audacia di rivendicare la più importante base militare di questo paese, il Pentagono, come il loro circolo privato. E non farti ingannare America, che la sola confraternita d'acciaio, bollato come renegato, è sempre pericoloso. Ancora di più, ora che in esilio. E che dire degli schiavisti di Paradise Falls, i ghoul degli inferi, paurosamente contaminati dalle radiazioni, e ultimo, ma non meno importante, i mostruosi supermutanti che hanno completamente infestato l'intera area del centro di DC. Illegalità, terrore, omicidio, ne siamo circondati, lo so, lo so. Ma non per molto, dolce America, non per molto, no. L'enclave restituirà pace, ordine e prosperità a questa grande nazione, e chi ci ostacolerà verrà rimosso per sempre. Rifletti su tutto quel che ho detto, mia America. Rifletti e aspetta, perché presto questa grande nazione rinascerà e l'enclave sarà la sua salvezza. Qui è John Reiden che chiude la trasmissione. Alla prossima.